Abbiamo già parlato in un precedente video di quanto accaduto a Cremona pochi giorni fa dove il vescovo locale ha proibito la celebrazione della forma straordinaria del rito romano. Tutto questo per salvaguardare, come lui ha detto, l'unità nella sua diocesi. Sua eccellenza mi permetterà di essere un poco stupito per questo in quanto per capire se l'unità è secondo giustizia bisogna considerare dove questa unità converge e se non converge, se non punta al bene assoluto non a quello particolare basato su opinioni personali per quanto possano essere diffuse vuole dire che probabilmente questa unità non è ben fondata. E il fatto che la messa tridentina disturbi l'unità della diocesi è una sua opinione personale certo non della chiesa e della sua grande tradizione. La cosiddetta messa tridentina ha infatti piena cittadinanza nella chiesa e questo anche grazie all'azione magisteriale di un papa pienamente legittimo come era Benedetto XVI. Questo mi sembra lo ha fatto notare anche un prelato che non si può certamente giudicare come tradizionalista come il bresciano cadinare. Oggi, infatti, l'unità liturgica ed ecclesiale è compromessa non dalla forma straordinaria ma dalla creatività selvaggia nelle parrocchie dove la messa nella forma ordinaria viene continuamente riscritta e reinterpretata. Mi auguro che Sua Eccellenza usi altrettanta autorità e altrettanta fermezza anche per frenare questi abusi che purtroppo avvengono oramai in ogni diocesi. E vorrei anche condividere un piccolo segreto con Sua Eccellenza. Oggi, molta gente non va alla messa nella forma straordinaria perché è ultra tradizionalista o contro il concilio. Ci va perché sente che nella forma ordinaria come viene oramai celebrata si è dissolto il senso dell'adorazione e del sacro. Per molti la forma straordinaria è oramai un rifugio l'ultima speranza prima della disperazione.